Ben tornati e buona giornata da Meteo One. Come possiamo vedere dall'immagine satellitare, la depressione che nei giorni scorsi ha interessato tutto il sud Italia sta lentamente spostandosi verso est. Da occidente l'alta pressione inizia a riconquistare la nostra penisola e già al nord si registrano nuovamente temperature estive. La ferita barica nei prossimi giorni andrà colmandosi anche al sud, ma con ancora possibilità di temporali sparsi, specie lungo la catena appenninica. Ma andiamo a vedere il tempo sulle nostre regioni per lunedì 12 settembre. Come già detto in apertura, l'alta pressione procede a grandi passi, quindi bello al mattino, ma ancora in stabilità nelle ore pomeridiane. Come infatti ci mostra la grafica, ancora temporali nelle zone interne della Puglia centro-settentrionale, l'Apenino-Lucano, il Materano e il comparto ionico della Basilicata, a partire dalle ore pomeridiane. Temperature stazionare, sia nelle massime che nelle minime, con cali circoscritti alle zone coinvolti e dai rovesci. Venti sostenuti dai quadranti settentrionali, mari da poco mossi a calmi. Ma ora andiamo a vedere la foto del giorno nella nostra consueta rubrica. Il meraviglioso tramonto del mare di Gallipoli nella foto a cura del nostro telespettatore Alfonso Zuccalà. E inoltre ricordate, se volete inviarci la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappola, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella puntata di domani. Grazie per l'attenzione e vi auguriamo buona giornata. Grazie per l'attenzione e vi auguriamo buona giornata.